Siamo con il tecnico della nazionale FF De Giorgi, che partita ha visto questa sera al Palamazzola? Beh, ho visto per i pugliesi, come si dice, come me anche poi alla fine, anche se io devo cercare di guardare tante altre cose, però sono pugliese quindi la vittoria di Taranto è stata una bella vittoria, una vittoria, primi due set molto combattuta, sofferta, devo dire soprattutto il secondo, perché nel primo sono stati avanti, poi hanno avuto un attimo nel quale il Verona è riuscito a rientrare, è un terzo set splendido dall'inizio, hanno giocato bene, hanno guadagnato tanti punti con il muro e quindi hanno messo in difficoltà la squadra di Verona. Una squadra di Verona che è una squadra giovane, si vede che anche loro hanno bisogno di trovare continuità, ma ci sono anche dei ragazzi interessanti nell'altra squadra. Quanti spunti per la sua nazionale ha preso questa sera? Tra Stefani e Gironi, Verra Taranto, Lorenzano, Letti, Di Martino, dall'altro lato cortesia, tanti spunti che potrebbero essere utili per la sua esperienza in azzurro? Sì, sì, sono venuto apposta per vedere qualche giocatore, insomma, vederlo dal vivo, anche interessante. Non ero sicuro che giocassero Stefani e Gironi, veramente, però mi ha fatto piacere vederli in campo, soprattutto mi ha fatto piacere vederli giocare bene, essere ragazzi decisivi. Anche Lorenzano è un ragazzo che sicuramente ha buone prospettive, deve crescere, deve mantenere, diciamo, quella continuità, quell'umiltà, soprattutto è un ruolo in libero che ha bisogno anche poi di esperienza. E dall'altra parte ci sono dei ragazzi interessanti, insomma, come Cortesia, Magallini, sono ragazzi che sono, insomma, da seguire. Si prendono, tanti rispunti ci sono. Grazie. Grazie, arrivederci.